L'autosabotaggio è descritto in letteratura come un pattern di azioni e comportamenti autodistruttivi finalizzati a impedire il successo. E come abbiamo visto anche in passato è un comportamento caratteristico di alcuni disturbi di personalità, in particolare quello borderline, ma è un comportamento che può essere potenzialmente applicato da chiunque. Il termine pattern viene utilizzato proprio per indicare un comportamento ricorrente, reiterato nel tempo. Non si tratta dunque di un fenomeno casuale, ma di un preciso meccanismo psicologico che si attiva in determinate circostanze e condizioni, in risposta quindi a determinati stimoli interni o esterni. Dunque la persona che si autosabota avrebbe in teoria tutte le qualità e le competenze per riuscire a raggiungere l'obiettivo che si è prefissata. Ma, appunto, c'è questo comportamento che si innesca e che le impedisce di raggiungere il successo. Tutti noi puntiamo al successo, ma per ognuno di noi questa parola si declina in una miriade di significati diversi. C'è chi fa coincidere il costrutto di successo con l'ottenimento del denaro, della fama, dello status sociale in generale, e c'è chi invece più in generale identifica il successo in una condizione di vita felice, serena, soddisfatta. E proprio in questo senso il successo per molti è strettamente legato alla soddisfazione relazionale. Con particolare focus spesso anche alla sfera sentimentale e affettiva. Poniamoci dunque due domande. La prima, ovviamente, perché ci autosabotiamo? E la seconda domanda, di conseguenza, è come possiamo evitare di autosabotarci? Partiamo col dire che il meccanismo psicologico principale che si trova alla base del meccanismo di autosabotaggio è la paura del fallimento e di sobbarcarsi quello stress che ne deriva. Paradossalmente il comportamento di autosabotaggio può essere innescato anche ad obiettivo raggiunto, ovvero quando magari noi riusciamo finalmente ad avere una relazione sentimentale. Perché il successo non è sempre uno stato, ma spesso è un processo, qualcosa che deve essere mantenuto continuativamente nel tempo. Ciò significa a volte che raggiungere lo scopo o l'obiettivo che noi abbiamo sempre desiderato ci mette talmente tanta ansia di perderlo che a un certo punto arriviamo a preferire noi rompere quell'obiettivo, distruggere quell'obiettivo, piuttosto che vivere nella condizione stressante della paura appunto di doverlo abbandonare. Per esempio nelle relazioni sentimentali l'autosabotaggio si declina in due macro comportamenti. La prima consiste in evitare a monte qualsiasi tipo di relazione per paura che questa fallisca e ci faccia stare male. Spesso in questi casi può essere presente anche un trauma pregresso, quindi una relazione passata che si è conclusa male e che ci ha fatto soffrire molto e che poi appunto ci porta ad avere paura di rivivere la medesima sensazione. Nella seconda casistica invece noi effettivamente instauriamo la relazione di lungo termine, ma quando sentiamo che questa comincia a diventare emotivamente molto importante per noi, ecco che ci spaventiamo e ci precipitiamo a interrompere la relazione prima che questa possa raggiungere livelli di intensità sentimentale ancora più alti. Questo è solo uno dei meccanismi che si possono trovare alla base dell'autosabotaggio, perché dietro ai medesimi comportamenti si possono trovare anche meccanismi psicologici differenti. Per esempio spesso l'autosabotaggio può essere determinato da un'interpretazione della realtà che può essere definita come realismo pessimista. Se siamo convinti che ogni relazione sia destinata inevitabilmente a concludersi, allora potremmo decidere che non valga nemmeno la pena cominciarla. Oppure potremmo stimare che il rapporto costi-benefici di una relazione sentimentale sia sempre e comunque negativo. Di solito chi fa questi tipi di calcoli è una persona che tende ad avere un approccio iperrazionale. Ciò significa che tende ad abusare dei meccanismi cognitivi e razionali e a escludere invece i meccanismi più istintivi ed emotivi. L'iperrazionale tende infatti ad essere anche ipercontrollante nei confronti della realtà e dell'ambiente circostante e teme immensamente tutto ciò che percepisce non essere sotto il suo diretto controllo. Di conseguenza l'iperrazionale tende ad essere perennemente insoddisfatto rispetto alle proprie scelte e tende ad avere un'interpretazione cinica della realtà. Tende spesso ad essere anche molto stanco a livello mentale perché ogni decisione, anche minima, implica l'utilizzo di processi razionali estenuanti che lo mandano dunque in sovraccarico cognitivo nel vano tentativo di controllare ogni variabile in gioco. Non voglio però dilungarmi sul tema dell'iperrazionalità perché ne ho già parlato in precedenti video e ci ho dedicato anche alcuni podcast su Patreon quindi se vi interessa vi rimando lì. Un altro meccanismo psicologico molto connesso ai comportamenti autosabotanti è la resistenza al cambiamento. Con resistenza al cambiamento si intende una rigidità psicologica nel mettere in discussione i propri schemi mentali, le proprie idee, le proprie convinzioni circa il funzionamento della realtà. Non li mettiamo in discussione neanche quando ci rendiamo conto razionalmente che questi ci danneggiano oppure quando viviamo delle esperienze dirette che disconfermano le nostre credenze. La resistenza al cambiamento è spesso connessa anche alla paura dell'ignoto una paura estremamente profonda nell'essere umano che lo porta a non abbandonare qualcosa di conosciuto anche se deleterio per esporsi a qualcosa di sconosciuto e potenzialmente migliorativo. Ed è per questo che alcune persone tendono a costruirsi una zona di comfort molto piccola e paradossalmente disconfortevole pur di non cambiare quel complesso sistema interpretativo di schemi mentali che si sono costruiti nel tempo e in cui si crogelano perché gli dà quella sensazione di protezione. Infatti tra i comportamenti autosabotanti in campo sentimentale non c'è solo il fatto di non iniziare una relazione o interrompere una relazione quando vediamo che sta andando bene ma c'è anche l'incapacità di lasciare un partner quando ci rendiamo conto che non siamo felici con lui o con lei. Un comportamento autosabotante potrebbe essere infatti anche quello di perdonare un tradimento come abbiamo visto per esempio in un video precedente. Ma la resistenza al cambiamento è a sua volta determinata spesso da un altro meccanismo psicologico che si trova ancora più alla base e parliamo in questo caso della bassa propensione a rischio. Perché ovviamente chi ha un'alta intolleranza al rischio tenderà a uscire molto meno dalla propria zona di comfort e si impedirà di conseguenza di fare quelle esperienze necessarie per mettere in discussione la propria interpretazione della realtà e di conseguenza migliorarsi. Anche qui le persone iperrazionali tendono ad avere una alta avversione a rischio proprio perché ingigantiscono psicologicamente le potenziali ripercussioni negative di un proprio comportamento e contestualmente sminuiscono le potenziali ripercussioni positive. Nelle relazioni sentimentali, ma in generale nelle relazioni sociali, un certo grado di propensione a rischio è assolutamente necessario. Perché quando parliamo di esseri umani parliamo di essere estremamente complessi e per certi versi imprevedibili nei loro comportamenti. Dunque, per chi vuole controllare tutte le variabili, relazionarsi con degli esseri umani può essere particolarmente stressante. Nelle relazioni, infatti, è necessario delegare almeno in parte il nostro funzionamento ad aspetti più inconsci, emotivi e istintuali. Se parliamo poi di relazioni sentimentali, tutto ciò ha ancora più importanza perché ovviamente nel concetto di amore inteso in senso romantico l'istintualità, l'emotività e l'impulsività sono degli elementi fondamentali per il buon funzionamento di una relazione. Ed è per questo che le persone con bassa propensione a rischio sono spesso anche filofobiche, ovvero hanno paura di innamorarsi perché ciò comporterebbe una maggiore instabilità, quindi una minore sensazione di controllo sul proprio ambiente. La coppia monogama basata sul sentimento affettivo implica necessariamente un certo grado di fiducia nell'altro, ma la fiducia ovviamente può essere delusa o tradita. Dunque fidarci di un'altra persona significa concedergli del potere sulla nostra vita, del potere anche di farci male. La persona iperrazionale con una bassa propensione a rischio e quindi anche un'alta resistenza al cambiamento tenderà dunque a tenersi molto lontana dalle relazioni sentimentali, evitando dunque tutte le potenziali conseguenze negative che queste comportano, ma allo stesso tempo privandosi anche dei potenziali benefici che anche in letteratura scientifica sono ampiamente dimostrati. Allora, proviamo a rispondere alla seconda domanda. Come possiamo smettere di autosabotarci? Purtroppo in questo caso vi devo deludere perché non c'è una risposta univoca a questa domanda. Come avrete capito, l'autosabotaggio non è un singolo meccanismo psicologico sempre determinato dalle medesime variabili, ma è un comportamento che può avere alla base diversi meccanismi, diverse motivazioni e quindi di conseguenza anche le soluzioni necessarie sono diverse. Per esempio, se ci rendiamo conto che i nostri meccanismi di autosabotaggio dipendono da un trauma per il resto, inevitabilmente dovremo andare a recuperare, magari dalla nostra sfera inconscia della mente, quel trauma e elaborarlo positivamente. Se invece, per esempio, i nostri meccanismi di autosabotaggio sono determinati da una bassa propensione a rischio, il procedimento in questo caso potrebbe essere quello di esporsi gradualmente a dei rischi simili ma di entità minore, in modo da affrontare la paura gradualmente e anche sviluppare una desensibilizzazione nei suoi confronti. Se invece i meccanismi di autosabotaggio dipendono da un'interpretazione della realtà iperrazionale, anche qua dobbiamo capire se questo è un meccanismo più fisiologico del nostro cervello, quindi qualcosa che ha una forte base genetica, oppure se è un meccanismo che si è rafforzato attraverso l'esperienza diretta. Quindi nella nostra vita ci siamo convinti che la razionalità è l'unico modo per metterci a riparo dai pericoli e quindi ne stiamo abusando di conseguenza, però esponendoci appunto a dei gravi pericoli connessi. In questo caso il percorso potrebbe essere cominciare a delegare gradualmente alcune nostre scelte minori, percepite come di minore impatto sulla nostra vita, a meccanismi più istintivi ed emotivi. Ripeto, se vi interessa approfondire questi argomenti, fatemelo sapere nei commenti, così ci dedicherò a un video futuro o un podcast su Patreon. Tenete conto però che io, nei video online dedicati a un pubblico generalista, un pubblico vasto, non tendo mai a dare dei consigli specifici, perché non credo in questo tipo di forma di autoaiuto, cioè non credo al fatto che io possa dare dei consigli che sono declinabili in ognuno di voi allo stesso modo. Magari do un consiglio che per alcuni funziona, ma per altri può essere addirittura deleterio e distruttivo. Quindi se vi approcciate al mondo della psicologia online in questo modo state attenti, perché spesso potreste incorrere anche in persone che non si faranno scrupoli a dirvi cosa fare, perché per loro magari ha funzionato, ma che nel vostro caso appunto potrebbe essere qualcosa di estremamente pericoloso. Per questo esistono gli psicologi, perché lo psicologo può lavorare ad hoc sulla tua condizione, che per forza di cosa avrà degli elementi che sono in comune con altre persone, perché siamo tutti esseri umani e in qualche modo siamo soggetti tutti alle medesime dinamiche psicologiche, ma ognuno di noi è unico e ha un'esperienza di vita, una interpretazione della realtà che differisce da quella di tutti gli altri e di conseguenza necessita un approccio specifico. Basta, io concludo qui il video, spero che vi sia interessato come sempre. Se volete supportare il canale appunto c'è Patreon, ma c'è anche la possibilità di iscriversi al canale Twitch. Ci vediamo in live dal lunedì al giovedì dalle 22.30 a mezzanotte per chi avesse piacere di dialogare in maniera diciamo più spontanea, più libera. E io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie ancora. Grazie. 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 Grazie.